Un'altra grande soddisfazione, l'Abruzzo finalmente è al centro dello scenario internazionale con i suoi territori, con i suoi prodotti, con il nostro brand, il brand Abruzzo, Abruzzo Sostenibile un riconoscimento da parte del Ministero che premia questo progetto che verrà portato a Dubai è bene precisare e ricordare che i Gallo vengono sostenuti e finanziati dal Dipartimento Agricoltura perché fanno parte del piano di sviluppo rurale e che vanno lì a rappresentare l'Abruzzo perché è stato scelto tra i cinque progetti che a livello nazionale l'Italia porta a Expo Dubai su quello che è il turismo sostenibile, il turismo rurale è un progetto che viene ovviamente in questa attispecie, parliamo della costa dei Trabocchi che è un nostro simbolo e quindi siamo orgogliosi e soddisfatti ma soprattutto per il fatto che c'è attenzione a livello nazionale perché finalmente c'è attenzione a livello nazionale per la nostra regione e c'è per la prima volta attenzione rispetto alla nostra regione a livello internazionale frutto di un lavoro che stiamo facendo torniamo da Dubai con l'agri-food la settimana scorsa dove credo che abbiamo per la prima volta anche qui sottolineo raggiunto un'attenzione vera da tutto il sistema internazionale con l'occasione di Dubai di questo nostro progetto di internazionalizzazione che credo farà fare un salto di qualità alle nostre aziende, alle nostre imprese ma soprattutto farà fare un salto di qualità alla nostra regione, alla regione Abruzzo abruzzo sostenibile così come l'abbiamo definito la nostra regione è una regione evocata che ha una valenza ambientale unica e fantastica è una regione che ha un territorio in un'ora e un mare eccezionale la costa dei Trabocchi lo rappresenta abbiamo la montagna, abbiamo la montagna più alta degli Appennini abbiamo un sistema di aree protette con tre parchi nazionali un parco regionale, 26 riserve regionali, un unicum ambientale dentro questo ragionamento noi puntiamo molto sul cicloturismo puntiamo molto sul turismo sostenibile anche come elemento di valorizzazione della nostra terra della terra d'Abruzzo e l'abbiamo definita nella missione all'est Abruzzo sostenibile